Ciao a tutti ragazzi sono Stefano Castiello e oggi sono in compagnia di Nicola Palmieri Nello specifico vogliamo parlarvi come al solito del mondo cripto e fare una piccola intervista a Nicola e lo ringrazio tantissimo per questa opportunità quindi come al solito restate fino alla fine perché vogliamo parlarvi anche di un progetto molto ma molto interessante Ciao Stefano, grazie mille per questa possibilità Grazie a te ovviamente Nicola adesso ti faccio qualche piccola domanda così per iniziare per rompere un po' il ghiaccio Presentati come vuoi Bella, questa è la domanda più difficile che mi potevi fare in assoluto quando uno ti dice presentati come si fa il segno della croce e dice ok io mi piace considerarmi un imprenditore e influencer perché sono nato come imprenditore e poi così a caso è nata la carriera da influencer partendo da quei due sul server fino poi ad approdare un po' sul mio canale personale che si chiama purtroppo come me quindi Nicola Palmieri e quindi ho fatto un attimo questo escursus un po' diverso durante la mia carriera ho fatto tantissime cose anche molto diverse perché si parla di teatro libri, mandare cose strane nello spazio l'ultima cosa che abbiamo inviato è una sonda nello spazio sono alla mia sesta raccolta fondi credo che sia un record da qualche parte ho diverse aziende tra cui una con cui abbiamo fatto appunto una delle raccolte più grandi in Italia che si tratta di mezzo milione di euro che si chiama Docity e nel mio canale personale parlo di finanza personale, cripto, imprenditoria in generale nel mondo del lavoro cerco di aiutare a capire qualche cosina in più cosa importantissima come al solito trovate il canale di Nicola qui in basso in descrizione e parto subito con una domanda molto interessante come ti sei appassionato al mondo cripto? guarda, me ne avevano sempre parlato, sai quando ti dicono beh però devi vedere il mondo cripto, guarda è bitcoin, senti, fai questo, fai quest'altro è cominciata così con una sorta di zanzara nella testa di amici miei che già cercavano di investire qualche cosa in realtà molto male, poi mi sono accorto però c'è sempre stata questa curiosità curiosità che è iniziata in realtà in vacanza perché tu devi sapere che le mie vacanze funzionano così io poi a un certo punto quando sto in giro mi annoio e comincio a fare cose e tra queste cose c'è stata la creazione di account su diversi exchange ho cominciato a metterci immediatamente dei soldi e ho immediatamente perso tanti soldi cioè nel giro di una settimana ci ho messo circa 3.000 euro ho perso 2.900 euro quindi è andata molto male il mio inizio è stato così drammatico sì un po' per tutti diciamo è sempre così quando ci si approccia al mondo delle criptovalute spesso si fanno errori inizialmente sono importantissimi questi errori perché poi sbagliando si capisce realmente se si è portati ovviamente se si è appassionati a questo mondo e soprattutto poi se la possibilità di migliorare quindi fallire in questi casi è fondamentale esatto il mio è stato un corso molto impattante se vogliamo che ho pagato circa 3.000 euro e che mi ha sbattuto in faccia che io ero proprio ignorantissimo però sai questo mondo così veloce mi ha appassionato proprio per la velocità mi piacciono molto le cose veloci, immediate e da lì quindi mi sono messo sotto proprio sottissimo e ho cominciato a studiare, a studiare, a studiare ora non sono un esperto non arriverò ad essere un esperto sono un amatore del mondo cripto, blockchain vedo delle potenzialità veramente importanti però ecco questo escursus mi ha servito proprio per maturare anche come investitore perché poi secondo me per un ragazzo è più semplice magari pensare alle cripto come primo investimento non so perché ma mi trovo a parlare con molti ragazzi e molti mi dicono ah voglio investire in cripto e magari non hanno mai investito in null'altra in vita loro invece di iniziare dal mercato più tradizionale professionale delle aziende non so se è successo pure a te sì assolutamente io anche io ho iniziato prima dagli etf in verità a capire un po' quel mondo lì e che sono un po' più sicuri perché non si acquista realmente quel prodotto e quindi ti danno la possibilità di conoscere più cose nel frattempo inizia ad investire e poi mi sono avvicinato pian piano dalla finanza tradizionale al mondo cripto che ha avuto un'esplosione assurda e sono assolutamente d'accordo con te quindi il consiglio che tu daresti alle persone è proprio questo cioè nel senso iniziare prima a capire come funziona la finanza tradizionale e poi passare realmente al mercato cripto sì assolutamente sì perché se tu inizi a metterci dei soldi mettici sempre i soldi che puoi perdere quello che dico sempre mettici i soldi che ti scordi di avere cioè quelli che proprio non ti servono che tu butteresti a terra e lasceresti lì perché è un mercato molto volatile soprattutto all'inizio entrarci non è sempre ha una barriera all'ingresso molto alta una volta invece che cominci a studiare cominci a capire i meccanismi cominci a capire che ci sono tantissimi progetti il 95% dei quali sono fuffa sì ragazzi purtroppo sì purtroppo sì ecco una volta che cominci a capire questo allora diventi un investitore un po' più inconsapevole e puoi andare oltre e soprattutto puoi muoverti pure come dicevi tu giustamente su tutto quello che c'è intorno quindi gli etf e ben venga sono strumenti semplici che possono possono aiutarci a capire molto del mondo degli investimenti l'azionariato che comunque è uno step successivo ecco quindi assolutamente sì d'accordissimo una domanda molto molto interessante il sole 24 ore ti ha eletto come il miglior crypto influencer d'italia cosa ne pensi di questa cosa cosa ne pensi al riguardo in generale diciamo io sono allora ti dico com'è andata te la racconto benissimo stavo a cena a un certo punto io tratto di crypto cerco di informare nel mio piccolo non faccio nulla di entusiasmante c'è chi tratta molto più approfonditamente di me l'argomento e quindi stavo cenando tranquillamente mi arriva messaggio della mia collaboratrice guarda qui adesso stavo a mangiare ho detto vabbè sei importante stavo a mangiare vado a cliccare e c'era sta classifica qui giustamente che mi vedeva come primo tra gli influencer lato crypto ora quella era una ricerca che avevano fatto insieme al loro laboratorio quindi era anche una cosa abbastanza importante io sono rimasto mezz'ora con la cena col piatto davanti a guardare il vuoto mentre la mia compagna mi faceva tutto bene e mi spingeva avanti e dietro però io veramente sono rimasto di sasso perché assolutamente non me l'aspettavo è sicuramente una cosa che riguarda l'influenza lato crypto e se riesco a informare io sono assolutamente più sono più contento decisamente perché la prima cosa prima di iniziare a fare anche a mettere il primo euro è informarsi andare diretti sì assolutamente non è sempre una bella idea io sono il caso specifico sono proprio io perché sono andato lì dritto per dritto ho detto dai adesso svoltiamo entriamo diventiamo ricchi e invece bam bastonare nel collo è successo un po' a tutti con chiunque parlo a chi inizia da investire questo succede purtroppo però poi dagli errori si impara e si va avanti e così adesso voglio farti una domanda inerente al progetto di cui parlavo all'inizio e il progetto in questione si chiama crypto.club giusto? sì e come nasce? crypto.club crypto.club crypto con la i perché noi siamo italiani e ci teniamo a sottolinearlo giusto giustissimo nasce dal fatto che tante persone già l'anno scorso mi chiedevano pareri mi dicevano Nick ma spiegaci un po' di più come funziona come non funziona dacci dei dei segnali dei consigli dacci delle cose che effettivamente ci permettano di fare il grande salto perché a settembre ottobre era molto facile andare su non ci giriamo intorno al che io ho sentito alcune persone alcuni amici ormai di anni che gestiscono un gruppo di investimento che fa azionariato che è manca farlo apposta il fratellino quindi investire.club e abbiamo abbiamo voluto mettere su la stessa strategia che c'era per investire.club quindi un club di investimenti consapevole fatto da gente che ci lavora in questo campo perché ci sono degli analisti finanziari quelli che possono dire sono consigli finanziari ti ricordi da influencer io e te che cosa dobbiamo dire sempre non sono mai consigli finanziari ok ecco dentro questo gruppo ci sono persone che si possono freggiare di poter dire sono consigli finanziari te lo dico io quindi lo puoi fare esattamente ecco a parte questo in Italia volevamo creare un qualcosa di stabile una roba in crescita quindi non andarcene verso mete esotiche parliamo così ma rimanere saldi qui e quindi abbiamo detto ok mettiamo giù questo progetto lo abbiamo fatto partire a dicembre è andato sta bene sono entrate centinaia di persone in realtà e abbiamo fatto la prima parte di questo di questo club e adesso stiamo lavorando per riaprire le iscrizioni è un club dove ci sono degli esperti quindi che ti aiutano a capire bitcoin c'è un corso ma quello è il minimo perché la parte fondamentale sono gli esperti a cui tu puoi chiedere di bitcoin di altcoin di nft anche di play to earn e si sta creando questa bellissima community effettivamente di persone consapevoli che investono in maniera consapevole quindi nessuno vuole fregare nessuno cioè il punto è questo noi stiamo in Italia vogliamo rimanere in Italia esattamente è una cosa importante altrimenti non ci avrei mai messo la faccia perché comunque dopo dieci anni di youtube sai quanto ci vuole accadere infatti la reputazione è fondamentale in questo caso soprattutto anche portare veramente del valore alle persone quindi quando si creano questi progetti la trasparenza è importantissima e quindi diciamo che l'obiettivo principale di questo progetto è proprio aiutare le persone in questo percorso diciamo adesso è pure un ottimo periodo perché come ben sappiamo il mercato è una fase di bassista siamo in un bear market quindi come dico spesso anche io è sempre un buon momento adesso per studiare e capire quali sono i progetti giusti su cui investire per poi trarre del profitto in futuro e questa è la cosa più importante tu dici benissimo una cosa che cerco di ricordare sempre è che ecco una cosa importante quando succede che il mercato va giù la prima cosa è oddio è tutto scam è tutta fuffa usciamo corriamo via braccia alzate si corre urlando ma in realtà questi momenti servono al mercato per capire quali sono i progetti soliti l'ho detto poco fa il 95% purtroppo dei progetti in crypto sono progetti che sono destinati a fallire cioè punto e in mezzo c'è anche chi ci crede tanto oppure ci sono anche i truffatori purtroppo funziona così esattamente come la maggior parte delle start up fa un percorso e poi a un certo punto può anche chiudere e purtroppo succede che la maggior parte chiudono anche i progetti in crypto subiscono questa cosa e i momenti di crisi come questo però fanno sì che uno la community si snellisca e rimanga solida e due solo i progetti che veramente hanno un futuro poi rimangono quindi solo la solidità se oggi riusciamo a entrare in un'ottica di siamo in un mercato ribastista e potrebbe scendere ulteriormente perché bitcoin ha toccato i 18.000 17.000 e qualcosa ma potrebbe andare ulteriormente più giù non significa che andrà per sempre giù viviamo in mezzo a dei mercati ciclici che hanno una ciclicità e proprio grazie agli esperti che tu vedi un po' questo questo ciclo anche facendo un po' di zoom out sì esattamente come funziona e se colleghi i puntini cercando di capire da una parte che cos'è veramente il bitcoin che cos'è la blockchain come funziona il mining dall'altra parte come funziona il mercato perché purtroppo per fortuna sono entrate anche le banche gli istituzionali all'interno del mondo cripto e questi sono i primi che nel momento in cui si crolla il mercato tirano fuori i soldi e quindi ulteriormente il mercato che già aveva paura continua a scendere quindi è questo che può servire un club a rimanere ben saldi conoscendo qual è il punto d'arrivo perché se io fossi stato da solo oggi avrei tirato fuori l'impossibile e non saprei che cosa fare invece grazie al team riusciamo comunque sia a capire dove arrivare perché arrivare come muoverci e questa è la cosa più importante secondo me sì esattamente è come avere una guida che ti supporta sia dal punto di vista proprio pratico ma anche psicologico perché in questi casi la psicologia è fondamentale tante persone vendono quando dovrebbero non so acquistare e questo è un po' alla base di tutti gli investimenti quindi è importantissimo avere una persona che ti guidi e in questo club c'è possibilità se si può sapere chi c'è dietro questo questo progetto non so ho visto tramite il sito ho dato un'occhiata al tutto c'è il tuo nome e ci sono tantissime altre persone importanti comunque di valore sì sì allora prima di tutto noi riapriamo le iscrizioni il 30 quindi c'è un un evento gratuito che facciamo il 30 alle 21 a cui aspetto che tu parteciperai quindi nel caso invitiamo le persone ad iscriverci poi insieme a me diciamo che io cerco di essere un po' il portavoce c'è sicuramente Cosimo Pagliai che è un un imprenditore di Firenze che è anche una casa di produzione importante lavora con marchi molto interessanti nel mondo del lusso e extra lusso cioè Nicola Duranti che è un analista finanziario di cui ti parlavo prima che può freggiarsi di essere di dare consigli finanziari sia a lato investimenti azionari ma anche che ti fa capire un po' anche l'emotività del mercato perché poi capisci bene che lui ne ha vissute tante sia di crisi che di momenti molto alti e quindi ti può dare una mano è comunque una persona che ha oltre 20 anni 25 anni di esperienza in questo in questo mondo poi c'è sicuramente Daniele che è il nostro esperto di Bitcoin dedicato proprio all'analisi tecnica cioè Lorenzo ci sono tante altre persone che lavorano dietro insomma il team è veramente variegato e inoltre abbiamo anche una rivista che è registrata è un magazine registrato dedicato uno alle criptovalute e l'altro agli investimenti sono riviste registrate che che fanno assolutamente parte di tutto il club quindi anche questo ha un grosso valore aggiunto ok benissimo grazie mille per queste informazioni quindi ragazzi in descrizione troverete tutti i link di cui avete bisogno nel caso in cui vogliate approfondire cripto.club scusatemi e ringrazio soprattutto Nicola per aver partecipato a questa intervista grazie mille Nicola vi ricordo quando vuoi grazie spero allora che ci sia un'altra occasione perché mi ha fatto molto molto piacere assolutamente basta che tanto ormai ci possiamo sentire va benissimo grazie mille a tutti ciao Nicola a presto ciao arrivederci